Quando sabato scorso abbiamo fatto la festa del Ciao e ho dato il primo annuncio di questa tappa, c'è stata l'esplosione della gioia, una gioia incontenibile, era una necessità che coltivavamo da tempo. Ecco, uno spazio a disposizione di famiglie per stare un po' insieme ma anche per, visto lo spazio che avete di sotto, fare dei convegni, delle mostre, insomma è uno spazio polivalente multifunzionale. Sì, certamente anzitutto la catechesi, poi la formazione giovanile, poi da queste attività che continuamente vengono coltivate tutto quello che può essere utile per aiutare una comunità ad integrarsi. Tra l'altro qui abbiamo dei quartieri che ospitano famiglie venute da lontano, c'è perfino qualche famiglia che viene dalla Cina, quindi per favorire l'incontro diversamente queste famiglie si chiudono nella solitudine perché non conoscono nessuno. Siamo tra l'altro in periferia e non sono molte le attività di cui si dispone proprio per l'incontro, il dialogo, le attività così di carattere associativo.